Uno scontro frontale che ha causato una tragedia di tre vittime. Il bilancio dell'incidente avvenuto nella strada per Butera ieri pomeriggio tra un'ambulanza e un'autovettura Nissan Juke. L'ambulanza dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela trasportava un paziente di Niscemi, deceduto anche lui, Francesco Cannia di 76 anni, a causa dello scontro che è andato a fare un ciclo di emodinamica al Sant'Elia di Caltanissetta. Oltre al giovane che guidava l'auto deceduto, Luigi Guarnaccia, anche l'autista dell'ambulanza, Tiziano Iudica, molto conosciuto a Gela, ha perso la vita. L'infermiere ed il medico che erano in ambulanza sono stati portati, uno all'ospedale Sant'Elia e l'altro al Vittorio Emanuele. Le loro condizioni sono serie ma non gravi, si sta indagando sulla dinamica dell'incidente che è stato sicuramente uno sconto frontale.